Costretta a soffrire in questo finale di campionato, la Virtus Ragusa battuta per un solo punto a Messina, 79-78 il punteggio finale dopo un'altalena d'emozioni. La squadra eblea ha disputato una buona gara, riuscendo a rimontare anche in condizioni difficili e giungendo a poche decine di secondi dalla fine in vantaggio, ma l'ultimo canestro dei peloritani ha punito pesantemente i virtussini. In Serie D è partita bene l'Olimpia Comiso, vincendo con pieno merito la gara 1 dei play-off per la promozione in Serie C. Il quintetto di Ceccato si aggiudica la prima gara per 102-80. I giallorossi, dopo un primo quarto chiuso in vantaggio col minimo scarto, rimangono a contatto sino all'intervallo lungo, ma nel terzo quarto Comiso con una parziale di 31-19 aumenta il vantaggio e lo mantiene fino alla fine. I ragusani conquistano così il primo punto della Serie che ora si sposta a Messina per gara 2 che si terrà domenica 7 aprile alla Pala-Russello con inizio alle ore 18. Domenica prossima quindi la squadra eblea ha la possibilità di chiudere il conto. Diversamente sarebbe decisiva gara 3 a Comiso.